E' iniziata una pandemia da Covid-19 e adesso dovemmo restare in casa. Abbiamo imparato a stare alle regole. Abbiamo scoperto il piacere della sana cucina casalinga. Sta morendo molta gente, dobbiamo mantenere le distanze. Abbiamo incentivato la digitalizzazione ed alfabetizzazione informatica con la scuola a distanza e con lo smart working. Abbiamo scoperto il giardinaggio sul balcone e negli orti. La pandemia si è sparsa nel mondo. Abbiamo risolto il problema del traffico e dell'inquinamento. La natura si è ripreso il suo posto. Andrà tutto bene, basta aspettare. A presto.